Quando si parla di solidarietà i nostri cantautori bolognesi ci sono. Qui li vediamo nel videoclip di Bannadel, il successo in bolognese che qualche anno fa ha dato il là al primo progetto di solidarietà di Franz Campi e dei suoi molti amici. Quest'anno c'è un cd inedito di canzoni natalizie, una lotteria con oltre 70 premi messi in palio da aziende bolognesi e una serata animata dai nostri comici. Il ricavato sarà interamente a favore delle cucine popolari, la rete di cucine che prepara ed eroga i pasti a favore delle persone svantaggiate. Giovedì è alle 18.30, Tettoia Nervi, si chiama Piazza Ucciodalla adesso, vicino alla sede del Nuova del Comune, ci sarà Vito, il grande comico Vito, Giulio Pizzocchi, Gianni Fantoni, il duo Idea, Danilo Masotti, Baldrina d'eccezione sarà Marisa Maffeo, Danilo Riponi farà i panini con la mortadella e quelli firmati gourmet, quindi chi vuole può bere il vin brulè e fare la mortadella. Conduciamo io e Mauro Malagutti, che è il direttore di Radio Sanluchino, insomma una grande festa solidale, un'estrazione spettacolo, quando sono le feste popolari c'è l'estrazione, la riffa insomma, col tappo. Noi estraiamo invece dei premi, una settantina di premi che generosamente hanno offerto delle aziende del territorio bolognese, perché è tutto ricavato di questa vendita per i biglietti per l'estrazione e ai primi linee regaliamo anche un CD organizzato e realizzato dalla Sonica Sound, tutto ricavato di cielo va alle cucine popolari, che è una realtà bolognese importantissima, soprattutto in questi momenti di recessione economica, di crisi e i loro pasti che offrono gratuitamente a persone che ne hanno bisogno sono passati da 400 a 600 pasti al giorno. Hanno bisogno di carne, hanno bisogno di toni, di pesce insomma, di pasta e quindi noi con questa iniziativa che è divertente, che è un abbraccio solidale della città di Bologna a chi ne ha bisogno, in modo ironico e divertente appunto l'estrazione, vogliamo aiutare. Ne vale la pena, noi siamo un gruppo di amici che da anni facciamo questa iniziativa e questa volta le cucine popolari sono in nostro parco. Grazie a tutti i nostri amici che da anni facciamo questa iniziativa e questa iniziativa è un'altra Grazie a tutti.